andrea giambruno lontano dai riflettori e dall'ormai ex compagna giorgia meloni continua la sua vita da papà single insieme alla figlia ginevra è passato quasi un mese dall'annuncio del premier che ha aperto uno squarcio insolito sulla sua vita privata così come dai contestati fuori onda del giornalista che ora sembra si sia ritirato and una vita privata mantenendo un basso profilo andrea giambruno trasloca non lontano dall'ex compagna è il settimanale chi ha di immortalare ancora giambruno in un momento della sua quotidianità non un momento qualsiasi il settimanale pubblica in esclusiva le foto del giornalista durante il trasloco da casa meloni ad una nuova abitazione che farà da cornice alla sua nuova vita da single sarà pur vero dunque che i due si erano già allontanati da tempo ma non sembrano esserci più dubbi sul fatto che il polverone mediatico abbia stabilito un confine un prima e un dopo senza ritorno nella loro storia d'amore ecco allora che giambruno lascia la casa al torrino roma che condivideva con la compagna per trasferirsi secondo il settimanale in un appartamento più piccolo e modesto ma senza lasciare il quartiere per garantire la sua presenza quotidiana alla piccola ginevra 7 anni l'ex compagno di giorgia meloni si è trasferito non lontano dall'abitazione di famiglia si legge sul settimanale il giornalista di mediaset ha scelto di risiedere il più vicino possibile alla piccola ginevra cui è legatissimo la separazione da giorgia meloni è cambiata la vita del giornalista da quando lo scorso 20 ottobre giorgia meloni annunciava la fine della loro storia lo ringrazio per gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme per le difficoltà che abbiamo attraversato e per avermi regalato la cosa più importante della mia vita che è nostra figlia ginevra le nostre strade si sono divise da tempo ed è arrivato il momento di prenderne atto aveva fatto sapere lei che in seguito ha messo a tacere la questione